Lo sapevi che l'Italia ha il maggior numero di siti patrimonio dell'umanità unesco al mondo, con oltre 50 siti riconosciuti per il loro significato culturale e storico, che vanno da città d'arte a paesaggi naturali? Lo sapevi che l'Italia è stata la culla del Rinascimento, un movimento culturale che ha radicalmente trasformato l'arte e la scienza in Europa tra il XIV e il XVI secolo e ha dato origine a geni come Leonardo da Vinci, Michelangelo e Galileo Galilei? Lo sapevi che durante l'epoca romana l'Italia aveva sviluppato un esteso sistema di strade, molte delle quali sono ancora in uso oggi, come la famosa Via Appia che collegava Roma con il Sud Italia? Lo sapevi che il Teatro San Carlo di Napoli, inaugurato nel 1737, è uno dei teatri d'opera più antichi ancora attivi al mondo e ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo dell'opera italiana? Lo sapevi che la città eterna di Roma ha un patrimonio archeologico così denso che nuove scoperte vengono fatte regolarmente durante lavori di costruzione e il suo centro storico è un sito unesco per la sua straordinaria testimonianza della storia umana? Lo sapevi che il Vallo di Adriano, una struttura difensiva costruita dall'imperatore romano Adriano in Gran Bretagna, è stato progettato da un architetto italiano e i suoi resti sono oggi un popolare sito turistico e patrimonio dell'umanità? Lo sapevi che l'Università di Bologna, fondata nel 1088, è considerata la più antica università del mondo occidentale in funzione continua e ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'istruzione superiore in Europa? Lo sapevi che Castelluccio di Norcia in Umbria è famoso per la sua fioritura, un fenomeno che avviene a fine primavera quando il pianoro si copre di un tappeto multicolore di fiori attirando fotografi e visitatori da tutto il mondo? Lo sapevi che Sassi di Matera, le antiche abitazioni scavate nella roccia invasilicata, sono stati uno dei primi siti italiani dichiarati Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e hanno ispirato numerosi registi cinematografici? Lo sapevi che il Museo archeologico nazionale di Taranto ospita una delle più importanti collezioni di artefatti della Magna Grecia, testimoniando l'importanza storica della città in l'antiquità?